Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel, siamo qui per parlare della quinta puntata dell'ottava stagione del Trono di Spade, lo facciamo con spoiler. Altro disclaimer, come la volta scorsa, se siete proprio dei grandissimi fan, se questa ottava stagione vi sta piacendo un sacco, se questa quinta puntata vi è piaciuta di brutto, probabilmente questo video potrebbe darvi fastidio, quindi mettetelo in conto, magari non guardatelo. Altra precisazione da fare, visto quello che avevo detto la volta precedente, avevo detto che avrei fatto il video dopo la sesta, in realtà quello che pensavo sarebbe successo nella sesta e è successo nella quinta, abbiamo di fatto un pre-finale, quindi facciamo un video adesso e un video anche dopo la sesta, se ci saranno gli spunti, ma direi di sì a questo punto. Sarebbe molto molto facile sparare sulla Croce Rossa, lo faremo in questo caso, ma ci sono un paio di cose che mi sono piaciute, quindi voglio dare subito a Cesare quel che è di Cesare. Prima di tutto mi è piaciuto il commiato che si capirà essere davvero un addio fra Tyrion e Jaime, due dei miei personaggi preferiti in assoluto, è bello come quella scena riesca a rappresentare il crollo emotivo di Tyrion, che si rende conto di stare scommettendo su una Daenerys della quale dubita sempre di più. E quindi c'è davvero una grande tensione dentro di lui, oltre al fatto ovviamente di rivedere il fratello che ama e al quale deve tanto. È bello il riferimento all'infanzia perché ci ricorda i riferimenti analoghi che avevamo avuto nelle serie passate, quindi quella parte mi è piaciuta molto, due personaggi che ho amato tanto, anche se soprattutto per quanto riguarda Jaime le cose iniziano veramente a deragliare, sono oramai deragliate in un modo che ritengo francamente inaccettabile per uno spettatore adulto. Ecco, altra cosa che mi è piaciuta molto, devo dire con i suoi momenti davvero efficaci, la fuga di aria per le strade di Aprodo del Re, molto molto ben orchestrata, soprattutto molto necessaria, perché la Daenerys che si riscopre stragista, ma dopo ne parliamo, ovviamente fa strage di civili, ma civili e soldati dei Lannister sono persone assolutamente generiche per noi spettatori. Abbiamo bisogno di un espediente che faccia sì che la nostra empatia decolli, che noi ci si renda conto di che cosa sta davvero facendo Daenerys Targaryen, e per farlo abbiamo bisogno di stare in compagnia di un personaggio al quale teniamo, un personaggio che tendenzialmente piace a tutti, o comunque a molti, che è quello di aria, generalmente siamo affezionati a lei, e vivere quella tragedia nei suoi panni, avendo modo anche qui e là ovviamente di dare un briciolo di identità in più a personaggi generici del popolo attraverso l'esperienza di aria, è un espediente necessario per farci capire la portata di quello che sta succedendo, quindi è un'ottima idea secondo me in questo caso, anche perché aria è congedata dal mastino in modo tutto sommato convincente, forse l'aria che conosciamo non si sarebbe fatta dire vai al sicuro, però dai è realistico che oramai Cersei sei andata, e che andare là si può anche stare, un po' forzatino, ma lo posso anche accettarci, è ben di peggio. E non solo, le sequenze di aria tra i crolli e le esplosioni di fuoco eccetera eccetera sono rese molto bene anche da un punto di vista visivo, il trono di spade ci sa fare nel renderti l'impressione di schiacciamento e soffocamento, l'ha già dimostrato in molti momenti, e soprattutto a un certo punto abbiamo il personaggio di aria con questa maschera di polvere bianca sul volto, rigata di sangue, un volto quasi maschile, e l'ho trovato incredibile, sembra un personaggio circense drammatico però, bellissimo, ci sono un paio di sue immagini, quasi di fotografie di aria nella polvere con questa maschera letteralmente, che sono straordinarie secondo me, veramente esteticamente bellissime. E poi anche la scena del cavallo, per quanto un po' futilmente misticheggiante, è però potente, e mi è piaciuta anche quella. Quindi quella è una parte che ho apprezzato, ecco le parti che ho apprezzato sono sostanzialmente finite, per il resto siamo molto molto in difficoltà e devo confermare che oramai lo si guarda per farsi delle grasse grasse risate. E non è questo che la serie vuole, per questo è cringe, perché è involontariamente ridicola, e non si salva, non si salva direi null'altro. Partiamo proprio da Jamie Lannister, quindi in realtà facciamo riferimento anche alle puntate precedenti, il fatto che sia finito fra le braccia di Brienne è una forzatura da fanservice. Quando è accaduto io ho pensato proprio, ma che cazzo fa Jamie? Ma no, questo non è Jamie. E infatti, si potrebbe quasi interpretare così quello che succede qui, sembra quasi che Jamie si rialzi dal letto con Brienne, guardi sul comodino, ma che cazzo ho bevuto? Fanservice, cazzarola, la devo smettere. E teletrasporto, ovviamente, come abbiamo visto, ad approdo del re, lasciando Brienne così forzatura su forzatura, sembra quasi che Jamie, dopo aver dato a chi lo desiderava questo fanservice, mentre in realtà molti altri desideravano altri intrallazzi per Brienne. Poi ritorni sul suo binario, dove deve andare a risolvere il suo personaggio, con Cersei, come era in qualche modo destino, molto brutto, molto forzato, e poi, vabbè, oramai è superfluo dirlo, è da qualche stagione che è così, però ogni occasione buona per ricordare quando nel trono di spade gli spostamenti erano fatica, erano medievale fatica di spostamento a piedi, di truppe e anche di cavalli, anche solo fare un viaggio era un'avventura, era molto bello, ma vabbè, oramai non stiamo a fare i nostalgici di quando c'erano quelle figate che non viviamo più, quindi Jamie, teletrasporto ad approdo del re, commiato con suo fratello, che mi è piaciuto, e poi andiamo alla risoluzione del personaggio di Cersei con Jamie, ma lo metterei un attimo tra parentesi, perché abbiamo detto del mastino, abbiamo detto del mastino che incontra la montagna, la montagna ha un bug di programmazione, vede il mastino e decide di abbandonare Cersei. Questa scelta che ci consegna l'altro fanservice da tutti desiderato, cioè il Clegane Bowl, questa scena in realtà per me è un rimpianto, perché col senno di poi, solo col senno di poi, considerando come finirà Cersei, pensate quanto più significativo e orrorifico sarebbe stato il finale di Cersei con la montagna, non nell'abbraccio ovviamente, ma l'unico astante insieme a lei nel momento finale, un mostro dal quale non si può avere in realtà nessuna empatia, e sarebbe stata l'immagine perfetta di ciò che lei era diventata. Peccato, piccola occasione persa volendo, ma non ha importanza in questo caso, in questo caso abbiamo l'ennesimo fanservice, sappiamo ovviamente che non è che vincerà la montagna, ovviamente Clegane, il mastino, ha finito il suo arco narrativo, si buttano nel fuoco, sequenza che ha un paio di inquadrature fighi all'Eylander sulla scalinata, però grandissima occasione sprecata, perché non riesce in nessun modo a raccontarci della drammaticità di questa scena. Cazzarola, l'abbiamo aspettata per tantissimo tempo, facci rivivere il trauma, ricordaci un attimo perché il mastino è lì, ricordaci un attimo i motivi, considerando che la montagna non parla, è già tanto che abbia avuto il bug per cui si ferma dal fratello, e quindi non ti darà un dialogo risolutivo, noi abbiamo bisogno di qualche cosa che ci racconti un climax o una climax, se preferite finale per quanto riguarda il mastino, qualche cosa di più di una scazzottata che finisce con l'eliminazione reciproca. Accidenti, avremmo veramente avuto bisogno di qualche cosa in più, da un punto di vista di il senso della vendetta che mi porta da te, mi fa superare il trauma del fuoco che tu mi hai instillato. Raccontacelo adesso, che è il momento. Invece niente, scazzottata, buttati nel fuoco. Sta arrivando, no? Manca una puntata, ragazzi, qua bisogna iniziare a morire, come Quiborn, come si chiama, sì, il tipo, il vermilinguo di Cersei, che viene buttato giù dalla montagna, come dire, scusa, siamo alla fine, spaccati la testa su quella roccia. E quindi si buttano nel fuoco, anche qui grandissima occasione sprecata, ma soprattutto vivere tutti questi fanservice si deve far storcere il naso di per sé. È molto importante essere spettatori critici e non essere fanboy, almeno dal mio punto di vista. Essere spettatori critici non vuol dire non essere capaci di godersi un'opera, ma ricordarsi sempre che è l'opera che mi deve conquistare, non sono io che devo emozionarmi. Ovviamente qualche fanboy sotto il video precedente mi ha scritto «Eh, ma se tu non ti emozioni per una cosa del genere, eh, ma tu parti già che non sei pronto ad emozionarti». È l'opera che mi deve conquistare, non sono io che devo compiacerla. E questa è la cosa fondamentale del non essere fanboy. Inoltre, se non sei fanboy, anche quando l'opera ti dà quello che tu speravi di vedere, se percepisci il fanservice, e qui ragazzi ci si nuota dentro a fanservice, devi dispiacerti, devi sentire il posticcio, il falso, perché non sei più tu di fronte a un autore che in qualche modo ti impone la sua visione, ti fa in realtà una proposta che tu puoi apprezzare o meno, della sua fantasia, della sua artisticità, no? No, hai un autore che è debole, che è fragile, che ha bisogno di compiacere il fanboy e lo farà per tenersi buono lo zoccolo duro. E anche se mi arriva una cosa che io desideravo vedere, questa cosa è falsa, è finta, è debole, è insignificante, l'autorialità è finita. Siamo ufficialmente di fronte a una commercialata buona per coloro che la consumano acriticamente. E quindi se io sono critico, non posso che sentirmi estraniato, estromesso dall'esperienza, capite? Questa è una cosa molto molto importante, bisogna sempre avere vivo lo spirito critico, noi non dobbiamo appartenere all'opera, non dobbiamo essere nell'esercito degli amanti, di nessuna cosa, mi raccomando. Dopodiché, che cosa succede a Cersei? Seguiamo lei, oramai stiamo facendo questo ragionamento, Cersei andrà giù e avremo questo. Che tristezza. Questo commiato con Jamie, in realtà, parentesi, Jamie, Euron, mamma mia, difficile raccontarla in realtà così. Euron Greyjoy, la superflotta definitiva, in uno scontro a terra che quindi sta lì in acqua a non fare nulla. Vabbè, distrutta da El Drago. E vabbè, dopo parliamo del Drago. Del Drago super power. Questo scontro, questa coincidenza impossibile, irrealistica. Iniziamo ad averne viste troppe, di cose così, per non pensare a Jamie che incontra Euron Greyjoy, per non pensare... Ma guarda un po', proprio l'ira. Va, 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 va. E vabbè, c'è questo scontro di un insignificante totale. Scopriamo che Euron Greyjoy non è un grandissimo spadaccino, evidentemente, siccome Jamie è stato molto ridimensionato dalla perdita del braccio, insomma, in ogni caso, finisce quasi in un pari e patta che dà a Jamie la possibilità di fare gli ultimi passi verso Cersei. Euron Greyjoy. Così. Un personaggio così, veramente. E la sua famosa flotta, proprio nella battaglia di Terra. Lasciamo perdere. Si arriva da Cersei, si arriva al commiato finale. Questo è un momento importantissimo. Questo è l'addio a uno dei personaggi più importanti del Trono di Spade. Non mi sto riferendo soltanto a Jamie, mi sto riferendo in questo caso a Cersei. Noi abbiamo bisogno di un finale dedicato a questo personaggio. Perché questo personaggio è stato il personaggio odioso per eccellenza, ma estremamente carismatico che ne ha anche passate di cotte e di crude, ma sempre a causa di un personaggio fondamentalmente manipolatore e malvagio come lei che era l'alto passero. Quindi in realtà sì, Cersei è già stata messa in ginocchio, ma da un'altra serpe, per così dire. Abbiamo bisogno, da otto stagioni a questa parte, abbiamo bisogno di un momento di confronto nei confronti di Cersei che non coinvolga un personaggio che è in ginocchio incatenato di fronte a lei che di fatto non le può fare nulla, che comunque è in una posizione di assimmetria, di debolezza incredibile. Abbiamo bisogno per una volta che Cersei sia affrontata da pari a pari da un personaggio che le possa parlare e che quindi ci possa dischiudere con un momento dialogico idealmente l'emozionalità interna, che non sia solo questa preoccupazione per figli reali o futuribili. Abbiamo bisogno dell'evoluzione finale, probabilmente della sbroccata finale del personaggio di Cersei. Cazzarola, sono otto stagioni che ci portiamo dietro a questo personaggio che non è mai messo in ginocchio da qualcuno moralmente superiore. Ha già incontrato personaggi a lei moralmente superiori che però non erano mai nelle condizioni di farle dischiudere l'orrore che porta dentro. Tutto questo ci è stato negato come spettatori. Il personaggio di Cersei viene sepolto in tutti i sensi. Fine. In questo finalino con Jamie, altro personaggio veramente, vabbè, ormai Jamie purtroppo, ed era uno dei miei personaggi preferiti. questo finalino con Jamie in cui lei dice nostro figlio, voglio che nostro figlio viva e lui dice siamo solo noi due, nostro figlio, siamo solo noi due, siamo solo noi due. Vabbè, sembra quasi che Cersei dica insomma, pensavo di più a nostro figlio, solo noi due. Ok. E crolla tutto. Non è questo, non è questo il finale che ci aspettavamo. Ma non che ci aspettavamo, non è questo il finale che era stato preparato per un personaggio come Cersei che nelle scene precedenti iniziamo ad uscire e ad andare verso la madre dei draghi, nelle scene precedenti da Latte alle ginocchia, da Beautiful, Dallas o Dynasty veramente, in questi infiniti, e riguardate la quinta puntata facendo caso ai primi piani senza parole che ci sono, F4 basito, F5 ingrugnito e hai fatto tutta la quinta puntata, vabbè, ci sono queste scene di lei sul terrazzo che guardano all'inizio questi scambi di sguardi impliciti, ridicoli, fra lei e l'altra cagna maledetta, l'altra veramente la cagna maledetta che è Emilia Clarke in questa serie che vibrando malamente i muscoli facciali cerca di farci vedere come d'un tratto il suo personaggio stia avendo il cambio finale e tu hai questa Cersei che sta in terrazzo e alla fine ci concede qualche lacrima, veramente un finale povero, mancante davvero da un punto di vista dialogico e dell'approfondimento psicologico per personaggi che dovevano avere una grande complessità e sicuramente ci hanno tenuto compagnia molto a lungo dimostrando di avere promettendo di avere qualche cosa in serbo per noi da un punto di vista narrativo nulla di tutto questo e parliamo della madre dei draghi la regina del popolo dei popoli la liberatrice dei popoli la distruttrice di tiranni quella che libera i popoli dal terrore hanno ucciso la sua amica e servitrice voglio dire verme grigio che ne va ben donde di sbroccare si incazza ma rimane quello che è il soldato disciplinato che combatte da Dio ha sofferto ovviamente ma insomma evidentemente anche perché i sondaggi come abbiamo visto la danno molto sotto ad altri ad altri regnanti come potrebbero essere Jon Snow la nostra la nostra Daenerys sbrocca in uno dei modi meno credibili e più posticce forzati che mio abbia mai visto in vita mia e improvvisamente di punto in bianco tutta una storia tutta una costruzione del personaggio tutta la sua natura in fondo ribelle non ribelle soltanto rispetto al destino che sembrava essere il suo all'inizio ma ribelle di fronte a tutto ciò che è il trono di spade ribelle a tutto ciò che sono le Cersei e i Cersei del mondo lei è l'anti in questo senso lei pensa al popolo che Cersei sacrifica come se nulla fosse e inizia a fare fuoco e fiamme sulla popolazione sui soldati arresi sui civili come se nulla fosse un milione di abitanti chissà quanti ne ha ammazzati e distrugge una città economicamente la furbata di distruggersi la futura capitale è veramente meravigliosa ma comunque e fa tutta questa questa incredibile strage facendo un click così psicologico da un momento all'altro e poi che dire del drago che dire del drago il penultimo drago colpito con due frecce precise già l'altro schivava non si capiva come visto che questi sembravano avere la mira perfetta ora evidentemente ha scoperto che L2R2 tu fai tutte le schivate che vuoi e vola in mezzo alle frecce distrugge tutte le balestre che improvvisamente cambiano totalmente il loro statuto da elemento che ridimensiona e da fragilità all'animale drago che può morire essere ferito essere plagiato e quindi sia un'arma potentissima ma molto fragile appunto improvvisamente perché hanno premuto un pulsante lo stesso pulsante che trasforma Daenerys in una stragista con lo stesso pulsante il drago torna ad essere l'arma finale le balestre basta girarci dietro le frecce basta fare L2R2 basta schivarle e andiamo tranquilli tutte le balestre esistenti sulla faccia di Westeros vengono distrutte come se niente fosse ma erano una grande minaccia fino a poco prima non lo sono più la battaglia doveva realmente essere incerta e niente e poi scopriamo una cosa meravigliosa che è che questi draghi hanno fuoco infinito infinito non esiste un limite alla capacità di questo drago di fare fuoco in più questo fuoco è un fuoco molto potentemente esplosivo l'avevamo già visto ma qui ancora di più veramente Godzilla è come distrugge i palazzi è una roba proprio allucinata e ha un potere assolutamente infinito quindi lei in sela di un drago se può schivare queste super frecce di queste super balestre poteva fare questi super dardi sarebbe più giusto dire poteva fare qualunque cosa in qualunque momento e le bastava un drago poteva fare tutto cioè ha distrutto una città da un milione poteva fare qualunque cosa distruggere tutti gli eserciti esistenti solo lei sul drago l'abbiamo imparato adesso non lo sapevamo prima ci sembrava che il drago fosse una creatura potentissima sì ma fragile che può essere uccisa eccetera eccetera ha premuto il pulsante non è più così la nostra sospensione dell'incredulità ovviamente è andata a farsi friggere e ci guardiamo questo prodotto così basendo F4 noi per come riesce a smentirsi a deluderci in ogni modo possibile poi c'è Jon Snow ovviamente io do per scontato che Jon Snow ce lo stiano tenendo tenendo in fresco per la sesta puntata che sarà finalmente la sua finora è stato uno smidollato l'amore con con Daenerys oltre a non averci coinvolto particolarmente a non essere stato ben raccontato in nessun modo considerando invece l'amore precedente che era stato bellissimo di Jon Snow l'amore con Daenerys è talmente asimmetrico è talmente lei che porta i pantaloni che Jon Snow ci risulta veramente un personaggio ma non era è stato anche il mio personaggio preferito ma non era un figo comunque no no sembra proprio di no io penso anche in battaglia è stato sempre molto relegato a ruoli secondari in queste puntate presumo penso immagino che ora arriva il momento di Jon Snow ora arriva il momento anche in cui bisognerà confrontarsi perché sta qui dal drago deve scendere un secondo comunque il drago atterrerà un secondo e qualcuno le dirà ma guarda che cioè noi non ce la immaginavamo così la liberatrice dei popoli cioè le cose sono andate in modo un po' stranino e vedremo se alla fine Jon Snow sarà costretto ad uccidere Daenerys quindi la domanda vincerà Cersei o vincerà Daenerys Daenerys è quasi una Cersei e sarà vincerà Jon Snow ok lo scopriremo nell'ultima puntata sto pensando sicuramente lasciato fuori qualche cosa non è possibile parlare di qualunque aspetto però siamo come dicevo l'altra volta siamo di fronte a un prodotto involontariamente comico ma di cui è inaccettabile l'incuria di cui è inaccettabile la frettolosità è inaccettabile la povertà dei dialoghi quanto poco testo c'è nella quinta puntata tantissime inquadrature f4 f5 ma pochissimo testo pochi dialoghi la cosa ridicola ragazzi devo dirvi una cosa non ditelo a nessuno Tyrion devo dirti una cosa non dirlo a nessuno Viserys come è che si chiama il pelato devo dirti una cosa non dirlo a nessuno Dracarys a posto ragazzi dai la barzelletta cose che una volta avrebbero richiesto un'intera stagione due anni di attesa per sei puntate tirate via molto superficiali che trattano malissimo i personaggi che hanno dialoghi che rasentano quasi sempre il ridicolo ok qui e lì sono state le scene belle le abbiamo anche dette ma davvero a cosa è servito tutto questo tempo non era meglio fare due stagioni da dieci puntate l'una con un po' meno effetti speciali non c'è nessun problema ma approfondendo stando un pochino in compagnia di questi personaggi anche se vuoi far succedere queste cose qui spiegamele meglio raccontamele meglio falli parlare un po' di più fammi vivere più esperienze giustifica meglio questi cambi di psicologia queste queste sbandate queste questo gemi che passa da Brienne a ricordarsi che lui in realtà sarebbe innamorato di sua sorella questa Daenerys che fa un click e cambia tutto il drago che improvvisamente ha ragione della balestra e dello sciame di balestra che ha sotto di sé spiegamele meglio queste cose possono anche accadere ma me le devi raccontare bene invece è pieno di scene schippate che non abbiamo mai visto hai quella sensazione lì molto superficiale ridicolo mal scritto mal recitato da parte di Emilia Clarke che secondo me è qualcosa di impresentabile come attrice ma insomma questa è un'opinione solo mia probabilmente ok andiamo verso la sesta puntata per farci due risate e per tirare le somme finali su quello che è stato su quella che è stata questa serie da quando Martin non se ne è più occupato perché poi alla fine come giustamente in tanti di voi hanno sottolineato quello è stato un descrimine importante devo dire che per quanto mi riguarda la prima serie senza Martin credo fosse la sesta può essere a me non era dispiaciuta anzi a un certo punto pensai ma guarda che non è neanche là come non detto stiamo a vedere stiamo a vedere quali saranno i prossimi impegni di Martin anche in ambito videoludico chi lo sa wink 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 e ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti